Buonasera, benvenuti, benvenuti su questo mio canale chiacchereccio. Io scrivo per IGN Italia, di lavoro, quindi ho avuto la possibilità di vedere in anteprima le prime tre puntate di Marvel What If, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe e prima serie animata dell'universo Marvel cinematografico. Serie animata che però è in continuity, quindi insomma si basa su tutto quello che abbiamo visto negli ultimi dieci e pass'anni di film Marvel al cinema e in tv con serie su Disney+, tipo WandaVision, Falcon e Winter Soldier, insomma serie che direi che conoscete tutti abbastanza. Buonasera, buonasera Roberto Iovino, benvenuto, bentornato Roberto. Tra l'altro questa è l'ultima live prima di un mio voyage in Terra Umbra, quindi per una decina di giorni sparirò. Il canale comunque non morirà del tutto perché butterò un po' di repliche, direi che un po' di Marvel vs DC, qualche vecchio broadcast, qualche roba la vedrete ancora, quindi tranquilli, non sparirò del tutto delle vostre vite. Dicevo, sì, Marvel what if? Allora, mi raccomando avvisi quando inizio a spoilerare, che me ne torna a vedere i video di Stefano Rappone. No, tranquilli, tranquilli, avviso chiaramente quando si comincerà a spoilerare qualcosina, a parte che comunque non saranno spoiler totali, semplicemente voglio un attimo raccontarvi quali sono gli innesti della puntata 2 e della puntata 3, quindi diciamo qual è la domanda a cui l'episodio pone risposta, però anche lì non esagererò troppo, mi serve più diciamo per poterne chiacchierare un po' più apertamente. Ho scritto anche un articolo su IGN Italia, riguardo, lo potete trovare, basta che googlate IGN Italia what if lo trovate, con le mie prime impressioni, completamente senza spoiler, quindi tranquilli, tranne un paio di cose che però si vedono già nel trailer, tipo quella che vedete in quest'immagine, cioè Agent Carter che diventa Captain Carter, quindi al posto di Steve Rogers la bella Peggy Carter prende il siero del super soldato e diventa la protettrice degli Stati Uniti d'America durante la Seconda Guerra Mondiale. Ok, ok, parliamo di what if in generale. Allora, nei fumetti what if di questo tipo ci sono sempre stati, e la Marvel aveva proprio una serie, tra l'altro, che si chiamava What If, una serie che esce ancora, diciamo con delle uscite così, una tantum, no, non regolari, in cui Marvel esplorava ed esplora tutti i suoi universi alternativi, comunque la possibilità dell'esistenza di universi alternativi. Nel senso che spesso nei fumetti la serie What If si poneva delle domande, che ne so, prendiamo l'esempio del primo episodio che credo abbiate già visto tutti, ma che comunque è stato spoilerato dappertutto anche nei trailer. Cosa sarebbe successo se, quindi What If, cosa se, cosa sarebbe successo se fosse stata Peggy Carter a diventare Captain America, che poi in questo caso appunto si chiama Captain Carter, invece che Steve Rogers? Ecco, la serie What If risponde a domande di questo tipo. Ti racconta cosa succede se qualcosa va diversamente da come lo conosci, quindi appunto in questo caso è lei ad aver preso il sereo del super soldato, e che cosa questa cosa ha cambiato nell'universo in questione. Quando prima ho detto ci racconta la possibilità dell'esistenza di universi alternativi, l'ho detto perché a volte gli universi di What If sono sia universi diciamo paralleli, universi alternativi, ma che narrativamente non impattano poi sull'universo Marvel in generale. Ci sono degli universi alternativi, penso al futuro alternativo del 2099, o al Marvel Comics Universe 2, dove c'era la figlia di Peter Parker che non era mai morta come nei fumetti, ma era cresciuta, era diventata Spider Girl. Ecco, quegli universi a volte si sono incontrati con l'universo principale. Penso a Old Man Logan, l'universo dove c'è Wolverine invecchiato, che ha ucciso tutti gli altri eroi, insomma. Questi tipi di universi hanno incrociato più volte il percorso del Marvel Comics Universe. Altri invece no. Quindi, insomma, What If va sempre preso un po' con le pinze, ci mostra degli universi strani e bizzarri che spesso iniziano e finiscono lì, e poi non sono effettive dimensioni parallele che ogni tanto vengono incontrate dai nostri eroi dei fumetti Marvel. Credo quindi che anche la serie animata abbia questa caratteristica, cioè alcuni episodi ci raccontano, diciamo, degli universi alternativi, diciamo tangibili, chiamiamoli così, che quindi potranno avere un impatto sulla narrazione del Marvel Cinematic Universe. Altre, secondo me, saranno quasi dei giochi. Tipo, immaginiamo che, non lo so, invece che Spider-Man, invece che Peter Parker, il ragno, abbia appunto Bruce Banner, quando questi era già Hulk e quindi diventa Spider-Hulk, no? Invento una roba a caso. Spero non ci siano episodi davvero così in futuro, se no ve l'ho spoilerato. Uno dei più fighi è Marvel Zombie. Esatto, Marvel Zombie ci sarà nella serie, vediamo anche qua degli zombettini, vediamo là un Capitano America bello affamato. Marvel Zombie è un universo che, è capitato, interagisse con il nostro. È capitato che alcuni degli eroi finissero nell'universo Marvel Zombie, quindi incontrassero magari la loro versione zombie. Altre volte, invece, invece no. Quindi chissà quali di questi universi saranno importanti e quali, no? Non si sa. Si vocifera che Captain Carter, quindi la nostra bella Peggy Capitano America, finirà in Doctor Strange in The Multiverse of Madness, quindi la vedremo nel film di Doctor Strange, che forse ci occuperà del multiverso, dico forse perché Marvel è sempre brava a nascondere le cose, a confonderci e poi a dirci una cosa e poi mostrarcene un'altra, quindi chissà. Però ecco, lei pare che abbia una certa importanza, però vedremo, magari poi non sarà così. Magari ci mostrano versioni alternative di mondi, di mondi possibili, ma poi andranno a finire in un nulla di fatto. Dunque, la serie, la serie Marvel What If. Serie animata, come vi ho detto. Animata come? Cominciamo con questo. Allora, come vedete già dalle immagini, dai trailer, hanno scelto uno stile molto realistico. È una sorta di animazione che quasi sembra ricalcare delle fotografie di attori, tra l'altro alcuni più simili, altri meno. Ad esempio, questo non è uno spoiler, però si è già visto nei trailer, anzi, si vedono alcune immagini di Bruce Banner che non è perfettamente identico a Mark Ruffalo. Quando vanno a ripercorrere le origini di Hulk, ripeto, parlo solo dei trailer, quindi quando si vedono scene di Hulk, magari tratte dal primo film, si vede che non è Mark Ruffalo, ma hanno fatto una specie di tratto un po' più generico, anche perché non c'era Mark Ruffalo. Adesso mi sto ovviamente dimenticando chi era l'attore che ha fatto la prima volta Hulk, ma Roberto Giovino me lo ricorderà subito in chat. Quindi, insomma, per alcuni attori magari siamo meno simili all'attore che lo impersona. Altri, ad esempio, Robert Downey Jr. è praticamente lui, quindi sembrano quasi dei ricalchi. Tornano, tra l'altro, le voci degli attori originali, quindi Robert Downey Jr. Tornano le voci degli attori originali, ma non Robert Downey Jr. e pochi altri, perché non tutti hanno deciso di tornare, per motivi di cachet, probabilmente, poi Kevin Feige ha buttato lì qualche scusa su progetti, su cose, eccetera, ma diciamo la verità, sono i soldi. Edward Norton, mi sono indicato a Edward Norton come primo Hulk, scusate, ma sono fuso, per me sono talmente abituato a Raffalo come Hulk, che voglio bene, che me lo dimentico. In italiano questo problema non si pone, ad esempio Robert Downey Jr. è doppiato da Angelo Maggi, quindi se vedete le cose in italiano potete stare tranquilli. Anche se c'è stato un paio di cambi di voci, ci sono stati anche lì, ma non vi dico di più. Animata male, dice Roberto Iovino, e in effetti non è animata benissimo. Ci sono alcune scene molto importanti d'azione, ben coreografate, ben gestite, in cui hanno speso un po' più di soldi. Altre scene, diciamo, hanno questa specie di animazione, definiamola computerizzata, non entriamo troppo nei tecnicismi, diciamo, è come se alcune animazioni fossero state elaborate in automatico da un calcolatore elettronico. Cosa che succede con i videogame. Quando nei videogame un animatore crea un'animazione, poi ovviamente il computer ha a farne un loop. Io creo l'animazione del personaggio che cammina, e poi l'animazione sarà sempre uguale. I personaggi di videogiochi non hanno un'andatura claudicante, come succede a noi, che magari ogni tanto mettiamo un piede male, l'altro inciampiamo, facciamo cose. Diciamo che si tende sempre a cercare di farle più realistiche possibili, ad esempio vediamo Nathan Drake nella serie di Uncharted, o comunque nei giochi di The Naughty Dog, dove il personaggio reagisce molto al tipo di terreno che ha sotto i piedi, però altre volte, in realtà, c'è questa animazione molto statica, molto identica su qualsiasi tipo di environment in cui il nostro personaggio si sta muovendo, che non calcola, diciamo, questo tipo di differenze. Ecco, molte animazioni qua sembrano fatte così, quindi un personaggio magari si allontana verso lo sfondo, si rimpicciolisce proprio come se un computer stesse calcolando le dimensioni e la traiettoria. Insomma, non so se mi sono spiegato, è un'animazione molto automatica e, parlandone con un amico, abbiamo riflettuto su probabilmente il fatto che loro abbiano creato davvero dei modelli base, poi utili per poter ricreare diverse scene. Ci sono anche alcune scene, anche questo si vede nei trailer, e se avete visto il primo episodio lo saprete bene, che ricalcano proprio le scene dei film. Quindi rivediamo le scene del primo Capitano America, in questo caso, ma con Captain Carter invece che Steve Rogers. Quindi, insomma, ricicli, ricalchi, ci sono un po' di tecnicismi, atti, secondo me, a risparmiare soldi e a creare qualcosa di molto semplice da decodificare per chi sta guardando la serie. Questa è una serie per tutti. Non è una serie per chi ama l'animazione, diciamo, davvero visceralmente. Non è piena di azzardi, di inquadrature strane. È tutto abbastanza statico, tutto abbastanza normale. C'è chi ha detto che sembrano i filmati delle serie Telltale, forse un po' troppo cattivi, però sì, in effetti sembrano le cutscene di un videogioco. C'ha questa specie di self-shading, no? Questa specie di filtro sopra i personaggi che li rende davvero delle foto quasi con quelle applicazioni che trasformano le foto in cartoni animati, una roba del genere. Quindi, insomma, visivamente non è il massimo quando si muove. Però ci sono tante scene di impatto. Diciamo che quando i personaggi sono fermi o ci sono delle scene molto iconiche, sono scene perfette, questa cosa l'ho scritta anche nel mio articolo, per fare degli screen. Perché la Marvel sa che la gente adora prendere screen dei suoi film e farci post sui social. Questa è una serie fatta per crearti l'immagine figa di Captain Carter che sta dando il pugno, col teschio rosso che viene colpito, con dietro, lo vedete lì, nella sua armaturina, Steve Rogers, perché abbiamo visto anche lì nel trailer che Steve Rogers prende di fatto l'armatura di Iron Man Mark I, che stavolta viene creata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e arriva magari da dietro e si crea questa specie di fotografia che tu puoi mandare in giro e dire mamma mia che figata what if, ecco. Marvel vuole fare questo, un po' come i rallenti nei film, no? Un po' come quando la telecamera gira attorno agli Avengers e tutti sono in posa figa e tu dici questa non serve a niente alla narrazione, serve solo per dire avete visto quanto sono fighi? fermate il Blu-ray, fate la foto, fate lo screen, mettetelo su Facebook come immagini di copertina. Questa roba è un po' il loro intento. L'altro intento, ed è quello in cui secondo me riesce di più alla fine, è quello narrativo, è quello narrativo. Vi ho spiegato che cos'era la serie what if, quindi sui fumetti, universi possibili in cui qualcuno ha preso una scelta invece dell'altra, magari Bruce Banner ha deciso quel giorno di non fare il testo, di non recarsi in quel punto preciso e quindi non ha salvato il ragazzino, quindi la bomba non l'ha trasformato in Ux, ma una piccola scelta spesso può cambiare un intero universo come in questo caso. Quindi narrativamente è molto divertente, molto divertente. Chi ci racconta queste cose è l'osservatore che l'avete visto prima nel pre-live, sono questa razza di alieni onniscienti che vedono tutto, sanno tutto, una razza che tra l'altro un tempo interveniva negli eventi dell'universo che tra l'altro aiutò un pianeta fornendogli della tecnologia questo pianeta la popolazione probabilmente non sapeva come usare la tecnologia oppure ci fu un malfunzionamento di fatto il pianeta esplose o comunque tutti morirono gli osservatori si sono sentiti colpevoli e hanno detto bon, noi non interveniamo più hanno fatto un giuramento noi adesso guardiamo e basta tra l'altro sono un popolo immortale è diventato immortale apparentemente per dei loro studi per una tecnologia che hanno usato quindi loro vivono in eterno guardano tutto ognuno di loro guarda un settore diverso e il nostro settore diciamo di universo quindi col pianeta terra soprattutto lo gestisce Uatu così si chiama Uatu l'osservatore non sappiamo se sia davvero Uatu quello che racconta Marvel What If se non sbaglio nei credits viene segnato forse solo come l'osservatore The Watcher diciamo che probabilmente Uatu arriverà nei film magari hanno deciso che non è proprio lui Uatu Uatu pura non lo chiamano così magari nel film dei Fantastici 4 comparirà tutta questa storia degli osservatori non viene raccontata dalla serie la serie ti dice solo ciao io sono l'osservatore io vedo tutto e vi racconto le varie possibilità della linea del tempo ma non posso intervenire come dice Roberto Jovino il nostro osservatore un po' agisce sì perché poi nei fumetti in realtà più di una volta è andato dai terrestri a dire guarda sta arrivando Galactus guarda sta succedendo questo guarda sta succedendo quello insomma è intervenuto in realtà chissà che non lo faccia anche nella serie fra l'altro perché lui era affezionato molto agli abitanti della terra quindi tipo Fantastici 4 ha deciso di aiutarli per evitare che Galactus si mangiasse il pianeta e lui poi non avesse più niente da osservare diciamo è stato anche punito per essere intervenuto più di una volta viene un po' visto come un outsider dei suoi compagni osservatori quindi insomma realtà alternative ora Marvel ha un po' sfruttato questa cosa dicendo che gli universi paralleli ora esistono dopo il finale di Loki Loki in realtà non si è capito bene se in realtà nel finale ci venisse spiegato che gli universi erano stati tutti cancellati o in realtà il nostro fosse solo isolato dagli altri perché a me sembra strano che colui che è rimasto alla fine del tempo che forse è Kang il conquistatore o comunque la sua versione probabilmente abbia ucciso tutte le sue versioni alternative perché sono miliardi probabilmente di universi paralleli quindi secondo me è più normale che si siano isolati diciamo però vabbè Marvel ha preso la palla al balzo dopo il finale di Loki ormai il multiverso è diventato una realtà che tutti conoscete noi vi mostriamo in What If gli universi possibili mi spiegate una cosa ma nel finale del primo episodio Captain Carter arriva nell'attuale universo Marvel allora allora cominciamo a entrare nel primo episodio che credo tutti abbiate visto se state vedendo questo video se no correrete a vederlo e poi tornate qua anche perché questo video resterà anche poi sul canale YouTube o comunque sul canale Twitch potete rivederlo nel caso allora no si hanno confermato che era Kang però non il Kang che probabilmente poi comparirà in in Quantum Mania in Ant-Man and the Wolf cioè questa era una sua variante della fine del tempo che non è né Immortus né Kang i Conquistatori cioè è una sua variante ecco non è ancora il Kang Kang che probabilmente conosceremo sì però è palesemente lui anche perché l'attore è quello i vestiti sono quelli allora allora leggo un sacco adesso ti rispondo subito con un no cioè semplicemente allora spieghiamo appunto quello che è successo il primo episodio ci racconta del fatto che è Peggy Carter a prendere il siero del super soldato invece che Steve Rogers a cui sparano dei colpi di pistola perché in realtà anche lì la variante non è che sia spiegata benissimo cioè semplicemente stavolta gli sparano ma non è che sembra proprio colpa del fatto che Peggy sia rimasta lì piuttosto che andarsene boh vabbè diciamo che la sua presenza ha fatto sì che sparino a Steve Rogers e lei va dal suo posto dentro la dentro la l'iniettatore di formula ecco e questo cambia l'universo quindi in realtà leggo un sacco quello che abbiamo visto è un universo parallelo non è il nostro universo Peggy Carter diventa Captain Carter questo permette con una serie di differenti scelte e suo modo di agire che il cubo cosmico non finisca nelle mani nell'idra ma nelle mani del nonno di Tony Stark che in questo modo crea un'armatura l'idra stomper che di fatto è la mark 1 di Iron Man che poi farà guidare a Steve Rogers succedono un po' di cose succede che poi col cubo cosmico si tenta di evocare una specie di piovrona tanto citazione al secondo guardiale della galassia una piovrona stile Cthulhu stile mostro di Cthulhu che alla fine viene sconfitto da Captain Carter che viene risucchiata in questo in quest'altra dimensione e riscutata fuori poi nel presente del Marvel Cinematic Universe buonasera Fragilitis benvenuto o benvenuta se vuoi iscriverlo in chat nel mio canale benvenuto a bordo per questa chiacchierata su Marvel What If per ora con spoiler solo del primo episodio poi dirò anche due cose dei episodi 2 e 3 che ho potuto vedere in anteprima e che vi racconto vi racconto un po' l'incipit se volete se non volete ve ne andate ma comunque ne chiacchiero perché secondo me è utile anche per capire come sarà la serie quindi cosa succede dicevo quando Captain Carter viene risucchiata dal piovrone poi viene risvegliata nel presente come è successo nell'MCU per il vecchio Capitano America e quindi la puntata ci dice che in questo universo nel presente non c'è più Capitano America ma c'è Captain Carter però non è il nostro universo ovviamente per nostro intendo quello dell'MCU classico cioè Captain Carter non è che è arrivata nel nostro quindi il Fury che vediamo alla fine è quello classico si è Nick Fury non mi ricordo se si vede proprio anche il fatto che sia di colore sia simile a Samuel L. Jackson comunque si di fatto ci viene raccontato che lei è arrivata nel nostro nel presente e quindi gli Avengers di quell'universo avranno come capo lei e non Steve magari il resto sarà uguale ci sarà Iron Man ci sarà Hulk Thor ma invece che Capitano America avremo Captain Carter ora questo è un universo parallelo chissà se questo universo si incrocerà mai al nostro diciamo quello classico dell'MCU chissà per adesso sappiamo di no sappiamo solo che ci hanno raccontato un'altra storia dove nel presente è arrivata lei e non Capitano America insomma non Steve Rogers quindi è importante capire questa cosa cioè lei alla fine non arriva nell'MCU cioè lei va rimane nel suo universo un universo dove le cose sono andate in modo diverso buonasera Tony Doctor Doom non so se anche Tony ha visto il primo episodio sarà delle domande a riguardo comunque sì questa è la lo scopo di What If la serie è antologica io non vi spoilererò per adesso non vi parlo degli episodi 2 e 3 ma gli episodi 2 e 3 ci raccontano altri universi dove tutto è andato in maniera diversa e non si collegano al primo episodio quindi per adesso non c'è una trama orizzontale gli episodi saranno 9 inizialmente pare fossero 10 ma uno è stato cassato adesso non si capisce bene perché però uno pare sia stato tagliato comunque saranno 9 a meno che poi non cambino ancora in corsa con la decisione 9 episodi io credo non collegati io credo perché i primi 3 non lo sono questo ve lo posso dire non è uno spoiler non sono collegati ognuno ci racconta una storia diversa c'è l'osservatore che dice adesso vi racconto di quella volta che e poi va avanti a raccontare la cosa che potrebbero fare magari nell'ultimo episodio mi viene da dire è non lo so l'osservatore proprio magari in persona chiama alcuni personaggi che abbiamo visto nelle varie puntate dai vari universi alternativi li fa unire in una sorta di squadra per sconfiggere qualcuno che magari sta mettendo in crisi gli universi non lo so non lo so secondo me sarebbe un po' esagerato sarebbe una roba davvero la multiverse of madness oppure Loki che abbiamo anche già un po' visto no? cioè i multiversi in pericolo io credo che vogliono semplicemente raccontarci tante storie divise ma mai dire mai mai dire mai magari ci racconteranno altre storie di quell'universo magari torneremo nell'universo di Agent Carter anzi di Captain Carter e vedremo nel presente come si sono formati quegli Avengers Lee dove lei è il capo però non si incrocerà con gli altri almeno questo questo è quello che credo quindi diciamo che è una serie più divertente dal punto di vista narrativo pensata se siete degli amanti della Marvel soprattutto dell'MCU e quindi vi diverte sapere immaginare chissà cosa sarebbe successo se se siete degli amanti dell'animazione e basta e vi dite ah c'è una serie animata sulla Marvel sull'MCU me la guardo credo che non troverete moltissimo l'animazione come vi ho detto è un po' legnosa molto fotografica diciamo un po' questo cell shading un po' spinto adatta appunto a dei momenti molto così molto fotografici dove fai lo screen dello schermo di quello che ti sta piacendo però questo devo dirlo gli effetti di luce gli effetti tipo esplosioni polvere i particellari quindi tutte queste cose quando magari scoppia un carro armato ed esce il fumo quelli sono molto ben fatti secondo me e nascondono anche bene anche le luci l'illuminazione a volte nasconde un po' di magagne proprio a livello di animazione i fondali per me sono molto belli soprattutto quando ci sono questi campi lunghi di alcuni luoghi devo dire che il secondo e il terzo episodio secondo me sono migliori sia a livello narrativo che a livello visivo poi capirete magari perché se volete perlomeno sapere di cosa parlano e quindi queste cose nascondono un pochino la alcune alcuni tecnicismi usciti un po' malino dell'animazione le musiche sono molto belle e quindi l'atmosfera è molto bella un po' perché a volte vabbè le musiche riprendono quelle dei film classici e altre volte perché comunque sono sono brave a creare l'atmosfera quindi l'atmosfera è molto molto figa secondo me quindi atmosfera narrativa divertente diciamo che ci passate sopra quando alcune cose animate non sono al massimo ad esempio le facce degli attori sono davvero di legno cioè non sembrano non provare emozione a volte a meno che non sia proprio l'estrema tristezza quando fanno oppure sorridono un sacco però ecco non è che siano mega espressivi cioè c'è un sacco di videogame probabilmente che avete già visto animati molto meglio magari si ispirano a secret war senza esse assemblano una squadra di varianti per una missione segreta sì potrebbe essere leggo un sacco potrebbe essere una un'ipotesi cioè decidono di fare una cosa del genere magari proprio motivati dall'osservatore che dice sentite me ne servono un po' o come anche spider verse nel film o anche addirittura nel fumetto c'era lì c'era addirittura madame web che convocava vari ragni da varie dimensioni diceva mi servite magari lo faranno potrebbe essere un finale di stagione anche se non c'è una trama unitaria però ti prendono dei personaggi che tu hai conosciuto e te li mischiano alla fine anche perché poi lì va la marvel guarderà anche tanto il successo come nei fumetti se tutti adoreranno agent carter farà altre robe con agent carter se tutti la odieranno agent carter la salutiamo quindi insomma quella è la legge del marketing lo sappiamo sarebbe figo però diciamo che io non sento il bisogno di una trama super unitaria non mi interessa per forza fare tutta una roba con le dimensioni anche perché preferisco quando mi racconti la dimensione singola spider-man è un nuovo universo molto bello perché si prende il tempo di raccontarti gli spider-man di varie dimensioni se non lo facessero capito te li prendono te li buttano tutti dentro tu non sai neanche chi sono questi personaggi quindi mi piace di più quando ti raccontano tutto anche una storia bella lunga di un universo alternativo poi semmai lo farai incontrare con altri quindi con calma poi hanno già confermato una stagione due quindi la prima secondo me si può anche scaldare i motori mostrandoci solo delle versioni alternative per me ci starebbe bene nei prossimi episodi ci sarà anche spider-man sì nei trailer si è visto spider-man con la cappa del dottor strange aveva questo mantellone rosso quindi avremo uno spider strange probabilmente non credo si veda nell'immagine che ho scelto qua perché è un po' tagliata ma forse più in alto si vede tra l'altro vedete anche challa quindi insomma black panther con i vestiti di star lord e i fucili di star lord vediamo anche là dietro quello che sembra vabbè appunto i marvel zombie quindi capitano america zombie occhio di falco si zombie là in alto vedo invece quella che sembra gamora vestita da gladiatrice tipo la hulk una roba del genere credo sia lei quello forse è ultron addirittura ultron con un mantello insomma tante cose particolari le vedremo e spider man ci sarà ci sarà se è già visto nel trailer si vede tra l'altro dottor strange parlare con captain carter non sappiamo che strange è però dice tu chi sei quindi forse avremo un episodio in cui il nostro strange interagirà in qualche modo con i multiversi magari sarà davvero un antipasto per i prossimi film quindi promosso il primo episodio il primo episodio promosso promosso con un po' di sé e un po' di ma sicuramente come vi ho detto la variante di agent carter che è un po' poco motivato il fatto che cambino le cose così tanto dal fatto che lei decida di restare nella stanza e steve si pigli le pallottole e lei diventi agent carter però il resto vabbè come viene gestito per me è divertente al fine ti riracconta il primo film di captain america quindi ti rivedi anche delle scene con le cose che poi vanno in un altro modo e anche tra l'altro secondo me la prima puntata quella che cambia meno le cose perché in realtà già il secondo episodio del terzo episodio ci racconteranno delle diversificazioni della timeline parecchio estreme secondo me cioè proprio parecchio che cambiano parecchio le cose ecco quindi preparatevi perché cambieranno parecchio le carte in tavola la vi spoileroso dice Tony Doctor Doom allora questa prima parte non sto facendo spoiler racconto solo il primo episodio però tra poco facciamo anzi tra 5 minuti praticamente vi racconto se volete almeno lì non dico tutto l'episodio però su cosa si baseranno le domande dell'osservatore dei prossimi episodi quindi gli e se della puntata 2 e della puntata 3 per farvi capire anche magari che cosa può aver funzionato meglio o cosa meno più dal punto di vista narrativo quindi promosso che dal punto di vista tecnico secondo e terzo episodio però migliorano tanto secondo me nel secondo c'è anche qualche lacrimuccia che scende e quindi insomma promossa promossa non è secondo me una cosa epocale più una cosa divertente cioè se volete divertirvi ipotizzando follie così del Marvel Cinematic Universe questa serie è perfetta poi in agosto quindi un mese leggero ve la potete sparare episodi 30 minuti durano anche poco quindi non ci sono momenti in cui diciamo tutto è lento cioè parti annacquate cioè è proprio una serie bella frizzante bella veloce poi chi lo sa ribadisco magari alla fine della stagione scopriamo che tutti questi universi confluiranno nel nostro oppure alcuni di questi personaggi compariranno nei futuri film allora diventa importante vederla ecco io credo non sarà mai così importante perché è una serie animata e io guardo tutto ma la maggior parte del pubblico la massa diciamo quella che fa fare i soldoni alla Marvel spesso se guarda i film in live action ignora le serie animate o viceversa così come se guarda i film spesso non guarda i telefilm era pieno di gente nella prima di Black Widow che non aveva visto niente delle serie Disney Plus e infatti restava un po' stordita dalla scena dopo il titolo di coda quindi che si collega alle serie anche qua non lo dico nel caso non l'abbiate ancora visto perché magari non siete andati al cinema o non avete pagato l'obolo di Disney Plus quindi questo la Marvel lo sa io credo che le serie tv saranno importanti ma non vitali per i film perché sennò sarebbe davvero darsi la zappa sui piedi loro devono tenere conto che tantissima gente si guarda solo i film e non vuole spararsi anche 100 episodi e allo stesso modo a un gradino ancora più sotto ahimè ci sono le serie animate dove uno dice ma questo è un cartone non ci sono neanche gli attori io voglio vedere Robert Downey Jr non voglio vedere i cartoni animati dicono e quindi non lo guardano questa cosa che mi fai la sa la Marvel la sa quindi dubito che tutto quello che vedremo in questi episodi sarà di vitale importanza diciamo che magari quando e se Captain Carter comparirà in Doctor Strange se noi l'avremo già vista qua diremo ah ma quella è Captain Carter ma se non avremo visto il cartone animato secondo me lei si presenterà dirà sono questo questo e questo ah nel vostro universo io sono morta di vecchiaia e Steve Logger è diventato Capitano America ah nel mio no sono diventata io Capitano America ah oddio wow fine capito non serve aver visto la puntata e tu lo sai ma ci sta ci sta cioè se ti obbligassero a vedere tutto sarebbe da folli cioè è bello diciamo avere la possibilità di vedere tutto e capire di più divertirsi di più ma non non essere obbligati non so se a vedere no sì ma sicuramente ci portano tantissimo eh Tony Doctor Doom Cired mille mille pippolini come li chiamiamo non gli ho dato un nome in realtà mille pippolini grazie per i mille pippolini Tony Doctor grazie per aver fatto il tifo come allo stadio grazie grazie Tony Doctor dicevo non so a vedere quantità di serie ci puntano molto di tifo no ma sicuramente leggo un sacco ci stanno puntando tanto e anzi Black Widow non è andato bene se gli altri film vedono che vanno così così mentre invece su Disney Plus la gente sgancia oppure la gente fa è chiaro che lo gonfiano quello che sto dicendo io è che secondo me devono un attimo stare attenti perché ripeto molta gente non ha visto le serie Disney Plus quando è andata a vedere Black Widow ma anche di miei amici gente appassionata di Marvel che non l'aveva vista oppure non l'aveva neanche finita e mi ha chiesto delle cose capito quindi devono stare attenti tipo Falcon e Winter Soldier questo credo l'abbiate visto tutti finisce con Falcon che diventa il nuovo Capitano America ora se fanno Capitano America 4 e il film inizia con lui che con Falcon Capitano America ci metti poco a fargli dire ai personaggi una frase del tipo boh magari vediamo Bruce Banner che lo vede dice ah ti ho visto al TG col vestito di Capitano America lo scudo allora hai accettato lo scudo eh e lui fa sì sì guarda alla fine eh alla fine sì ho accettato di portare avanti lo scudo di Steve e tu dici ah sì perché alla fine di Endgame Steve gli dava lo scudo e lui era un po' indeciso cioè capito senza aver visto Falcon e Winter Soldier tu capisci cosa è successo no? allo spettatore casuale cambia poco non capivano una prima che non fanno sì ma infatti infatti quello che dico io è non che non saranno importanti perché succedono delle cose fondamentali appunto no? Falcon e Winter Soldier succede tutto quello che succede Scarlet in WandaVision diventa Scarlet Witch quindi ah mio Dio cioè per carità sì 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 no sono serie importanti dove succedono cose importanti diciamo che non sono vitali secondo me cioè non punteranno mai a a fare una roba alla Infinity War no? che se non l'hai visto cominci con Endgame dove tutti sono morti per lo schiocco e non sai cosa è successo ecco quello secondo me non lo faranno magari ci saranno dei collegamenti molto fitti tra serie serie ma non tra serie film poi ripeto oh che ne sappiamo io spero magari vanno benissimo io per vedere me me le vedo tutte quindi conosco gente che non sapeva neanche fossero collegati i film davano lo stesso al cinema no infatti infatti quei collegamenti sono per noi per nerdacci come noi che adorano queste cose qua magari inizierà col funerale di Steve ma esatto può essere magari ci sarà un flashback perché qua non dicono mai apertamente che sia morto nel telefilm dicono non c'è più se n'è andato è sulla luna vabbè quella è una battuta anche se c'è chi pensa che sia sulla luna davvero quindi insomma magari inizia col funerale tu dici ok siamo a posto cioè i modi per farlo ma poi ragazzi era già così anche con i film di prima cioè ci sono film cioè tu potevi vedere Avengers quasi quasi senza aver visto gli altri film cioè sì ti vedevi Iron Man Iron Man 2 forse un po' il primo Thor Hulk di fatto te lo potevi non vedere ti dicevano sì guarda c'è questo qua che ha fatto degli esperimenti è diventato Hulk vai a recuperarlo fine cioè non sono mai stati esageratamente collegati come è giusto che sia infatti a volte la lamentela dell'è però sembra un telefilm se perdo una puntata non capisco ma non è vero non è vero cioè sì Civil War magari ecco quello non te lo godi perché non conosci nessuno non puoi vederlo da solo gli Avengers o comunque Endgame Infinity War ma molti altri in realtà ci sono alcuni i primi due Thor di fatto visto anche quanto poco hanno incassato se anche la gente non li aveva visti a Marvel fregava davvero poco quindi quindi così quindi insomma non sentitevi obbligati diciamo a vedere What If per adesso però se il tema del multiverso vi piace se Loki vi è piaciuto tanto volete capire un po' come funzionano questi multiversi guardatevela perché secondo me è divertente poi ripeto 30 minuti siamo ad agosto una serie animata comunque carina le voci sono quelle degli attori originali alcune sì alcune no se non sbaglio anche Black Widow non è tornata anche Scarlett Johansson mi pare non sia tornata beh posso dirvi che nei doppiatori italiani non è tornato Nick Fury non so se perché proprio il doppiatore non lo doppia più perché non si sa mai magari nei film anche però lui ha la voce diversa però altri tornano quindi quindi state tranquilli allora io adesso diciamo che non è davvero spoiler la mia parte però vi dico se volete quali sono i what if dei prossimi due episodi cioè qual è la domanda che l'osservatore si fa perché nel primo episodio il doppiatore si domanda e se quindi what if e se fosse stata Peggy Carter a diventare Captain America se volete vi dico quali sono le altre due domande che si fanno per spiegarvi giusto perché secondo me sono episodi venuti meglio Tony Doctor Doom molti pensano che per goderti un film Marvel suggio sappiano devi forza vederti tutti i 20 e rotti i film invece basta solo vedere due o tre ma sì sì esatto ma poi comunque vabbè tante saghe abbiamo avuto Otto Soul abbiamo avuto Il Signore e gli Anelli in tre film abbiamo avuto tre film con l'Hobbit abbiamo avuto sette Harry Potter cioè le saghe oramai sono state sdoganate certo qua sono 20 e passa film ma come dicono loro sono divisi in sottobrand a te magari interessa solo Iron Man ti vedi solo i film di Iron Man poi ti guardi gli Avengers dove lui incontra altri personaggi ma chi se ne frega io un tempo leggevo tutta la Marvel a fumetti adesso alcune cose le ho mollate non è che non capisco quello che succede io leggo Avengers mi leggo Spider-Man se Spider-Man a un certo punto incontra Thor e Thor ha la barba blu chi se ne frega cioè è capitato incontra Thor beh non la barba blu però insomma vi faccio un esempio stupido incontra Thor Thor ha la barba blu ah Thor ti sei rifatto il look sì ho avuto un po' di casino adesso ho la barba blu e c'è un triangolino che ti dice se volete scoprire perché Thor ha la barba blu leggete Thor io dico ma me che Thor ha la barba blu non me ne frega niente cioè mi leggo la mia storia di Spider-Man collaboro con Thor alla fine della storia Thor se ne va per i cazzi suoi e io vado avanti a leggere Spider-Man quindi anche questo si può fare al cinema tu ti guardi solo gli Iron Man lui incontra gli Avengers quello là chi è quello là chi è ti interessa ti guardi i film non ti interessa vai avanti bello tranquillo io personalmente non so perché un hype della Madonna per Spider-Man eh sì 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 sono quelli anche io i due film su cui sono così anche un po' Doctor Strange perché questa cosa del Multiverse of Madness Sam Raimi alla regia sono le due cose che più mi fanno impazzire comunque 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 dai vi dico le domande fate finta che siano dei trailer tanto un po' le state già vedendo anche qua ve lo dico nell'immagine l'avete vista anche già nel trailer semplicemente sapete che arriveranno quali sono le domande delle prossime due puntate pronti? pronti? dai dai che non è uno spoiler vero ragazzi ve lo dico non è uno spoiler vero la seconda puntata attenzione risponde alla domanda e se Star-Lord fosse diventato C'alla e lo vedete lì quindi semplicemente la seconda puntata non vi dico neanche perché vi spiega come mai quando sono arrivati i ravagers invece che andare sopra l'ospedale e raccogliere il povero Peter Quill con la madre morente di cancro poraccio almeno per dargli una vita forse più interessante abbiano preso C'alla si sono arrivati sopra l'uakanda lì c'era C'alla fuori dalla cupola di protezione che lì poi capirete perché e hanno prelevato lui ovviamente questo ve lo dico Yondu non è proprio felice di questo errore però le cose sono andate così Yondu sappiamo che non ha voglia di sbattersi troppo quindi non è che è andato a cercare Peter Quill che gli frega e quindi sì il secondo episodio vi racconterà questo e quindi come potete capire questo è un cambiamento molto grosso perché innanzitutto è ambientato nel presente dell'MCU non nella seconda guerra mondiale con C'alla che fa lo Star Lord e poi perché cambia tutto lasci l'uakanda senza nessuno lasci Peter Quill da solo con tra l'altro un papà che lo sta cercando in giro per il cosmo perché ricordiamo che il padre di Peter Quill era ancora vivo come si viene nel secondo guardiale della galassia quindi ma non sono spoiler si vede quali sono tutte le storie alternative si no esatto dico spoiler perché magari la gente non vuole sapere ah Dio chissà che puntata vedremo oggi cioè devo dire che anch'io magari a volte non vorrei sapere no qual è l'uotif del giorno io stesso non lo sapevo quindi mentre li vedevo dicevo Dio chissà quale sarà la terza puntata quindi insomma per quello comunque vi lo dico che che diciamo sono parti poi gli episodi non ve li spoiler davvero però vi dico che ci saranno dei personaggi cosmici che abbiamo conosciuto con dei ruoli che non ci aspetteremmo perché davvero cambia tutto anche perché ragazzi challa è challa a parte doppiato da Chadwick Boseman con pianto infatti la lacrimuccia è per quello c'è una serie di discorsi su Wakanda sulla vita sulle cose che quando le senti dire da Chadwick insomma fanno un altro effetto sapendo poverino la finaccia che ha fatto e e poi perché challa non è quel cretino di Peter Quill il cretino a cui tutti vogliamo bene forse dopo Infinity War è il guanto non tolto un po' meno però ecco è challa con la sua saggezza quindi cioè è un guardiano della galassia saggio che si comporta infatti ecco questo è un mini mini spoiler ma proprio mini non preoccupatevi all'inizio dell'episodio tutti lo acclamano ah tu sei lo sei Star-Lord il grande Star-Lord cioè le guardie quando lo vogliono arrestare hanno quasi paura dicono no mi dispiace Star-Lord cioè non come l'altro capito che diceva ragazzi io sono Star-Lord lo dicevano chi perché non sapevano chi fosse ma perché era un cretino ma no qua lo acclamano capito quindi è proprio è Black alla fine è Black Panther nello spazio più che Black Panther nei panni di Star-Lord quindi insomma questa cosa è anche molto figa e poi davvero cambia tutto cambia tutto ci sono dei cattivi che sono buoni dei buoni che sono un po' più cattivi cioè vedrete vedrete sarà molto interessante si vede tra l'altro anche nel trailer quindi si vede Howard il papero che avrà anche un piccolo ruolo un po' più grosso di quello del film qui che era solo seduto a bere il suo drink quindi bomba bomba anche a livello visivo la seconda puntata aspettatela aspettatela mercoledì prossimo con Chadwick Boseman con pianto madonna poveraccio ma mi è dispiaciuto tantissimo anche perché aveva proprio questa faccia simpatica cioè era proprio adorabile adorabile Boseman però ecco la seconda puntata spinge sull'acceleratore ci saranno anche delle belle battaglie poi appunto nello spazio cose visuali folli luci gente colorata un sacco di personaggi comunque quindi è molto più figa a me è piaciuta molto molto di più e attenzione al finale attenzione al finale perché il finale il finale diciamo che presagisce ad altri universi alternativi poi comunque altre diramazioni che sarebbe bello ci raccontassero quindi fighissimo la terza puntata la terza puntata attenzione si focalizza su un'altra domanda cioè e se mettiamola così gli Avengers non fossero mai nati quindi se Nick Fury non fosse mai riuscito a reclutare tutti gli Avengers perché perché qualcuno ogni volta che lui stava per andare a reclutarli li faceva fuori questo è solo l'incipit è un giallo bisogna capire chi è il colpevole che sta facendo fuori gli Avengers prima che Nick Fury li recluti questo è proprio è solo l'intro quindi vedremo indagini vedremo scene alternative dei vari film della fase 1 dove lui li reclutava che però andranno diversamente perché lascio vedere a voi come ogni Avengers andrà al creatore e chissà chi sarà il colpevole il colpevole non ve lo aspettereste io ho fatto delle supposizioni non ci ho preso anche la motivazione dietro è sensata c'è qualcuno che voleva odiava il progetto Avengers e odia odia Nick Fury per un motivo molto preciso che vedrete quindi questo stravolge completamente la la timeline che conosciamo gli Avengers di fatto non esistono più perlomeno quelli della fase 1 non magari altri personaggi ecco quindi anche lì chi lo sa questo tanto risponde anche alla domanda di Legun Sacco che chiedeva quella cosa di Captain Carter perché infatti qua Captain Carter non c'è c'è lo Steve Rogers normalissimo capito quindi è proprio il nostro universo ogni puntata è davvero a sé e non vuole andare a toccare le precedenti puntate quella mi è piaciuta tantissimo un po' meno forse dal lato visivo perché ovviamente è tutta sulla terra molti ricalchi di scene però lì era proprio divertente vedere come le cose andavano in un altro modo lì ad esempio c'erano tante scene del primo Hulk quello con Edward Norton che qua viene non ha il volto di Norton perché sennò devono dargli soldi quindi è un volto un po' più più banalotto più classico però ecco questa è un po' la roba della terza puntata terza puntata che questo posso dirvelo mi ha fatto un attimo strociare il naso su una cosa lì viene detto che Fury recluta tutti gli Avengers nel giro di una settimana cosa che era stata detta anche all'epoca l'avevano chiamata la settimana di Nick Fury la settimana impegnativa di Nick Fury dove lui reclutava tutti gli Avengers questo vuol dire che però il primo Avengers bene o male avveniva nel 2008 secondo i calcoli del Marvel Cinematic Universe perché Iron Man dice io sono Iron Man nel 2008 lo dice anche Visione in Civil War poi però c'erano tutti detto che no in realtà ogni storia avviene nell'anno in cui è uscita quindi Avengers è uscito nel 2012 e tutti si erano incazzati perché Spider-Man Homecoming andava a a sbagliare questo calcolo perché teneva gli otto anni calcolandoli dal 2008 dicendo che l'incidente degli Avengers era successo nel 2008 quindi hanno detto che no in realtà dal 2012 e lì ci siamo sbagliati con i numeri adesso tornano sulla storia del fatto che Nick Fury in una settimana abbia reclutato tutti gli Avengers e tutti i film della fase 1 avvengano durante la stessa settimana boom cioè secondo me la Marvel dovrebbe un attimo davvero mettere in chiaro e tondo nero su bianco stampare a fuoco la timeline del Marvel Cinematic Universe quindi questa cosa mi ha fatto un po' stracere il naso certo è un universo alternativo questo quindi magari lì è successo tutto durante una settimana però secondo me sono ancora i reparti che si parlano poco vabbè vedremo se un giorno rilasceranno dei libri con la timeline precisa comunque molto figo molto figo e molto stravolgente ecco diciamo che il primo episodio forse è quello che stravolge meno cambia giusto due cose sì poi succede quella cosa con l'armatura con il cubo cosmico però poi si arriva a un presente secondo me tutto sommato piuttosto normale con semplicemente Peggy Carter come Capitano America al posto di Steve Rogers gli episodi 2 e 3 sono molto più divertenti secondo me meglio scritti più pazzi più divertenti forse sono quelli che ti creano più domande a un certo punto ma oddio ma allora ma perché però secondo me non bisogna farsene troppe in questa serie una serie divertente fatta per divertirsi quindi preparatevi perché settimana prossima vedrete Chadwick Boseman nel ruolo di Challa Starlord e gli Avengers destinati a non nascere per colpa di qualcuno molto figo molto figo la rivelazione del colpevole gli indizi che vengono lasciati pochi ma poi se ci pensi in effetti avevano senso quindi saranno due puntate divertenti poi chissà dalla quarta in poi saremo blind anche per me io parto tra l'altro quindi spero non sarei riuscito a vedermele bene appena uscite sono contento che mi abbiano dato la possibilità di vederle prima va bene questo conclude la disamina su What If comunque serie promossa ma perlomeno nel primo episodio poi ne parleremo ne parleremo meglio magari farò anche delle puntate successive su su come la serie prosegue vi ricordo tra l'altro di iscrivervi al canale se state guardando questo video su youtube o comunque su twitch quindi sia su twitch che su youtube iscrivetevi se volete seguirmi sui social fatelo li trovate qua in chat ma anche sotto il mio canale ci sono tutti i link comunque cercate uomoespo uomo su instagram marco esposto su facebook o uomoespo su twitter ma soprattutto cercate su telegram il canale uomo twitch un canale dove io dico sempre quando vado in live che cosa faccio in live non spammo quindi state tranquilli non vi riceverete mille notifiche semplicemente avrete la notifica della mia live e l'argomento quindi insomma potete restare aggiornati su quello se volete aiutarmi nel fare quello che faccio potete anche fare una sottoscrizione una sub al mio canale potete abbonarvi e se avete amazon prime potete farlo gratuitamente perché potete collegare il vostro account con il mio e a costo zero supportare quello che faccio e mi aiutate a farlo meglio a farlo più spesso quindi ogni aiuto è sempre accettato sempre ben accetto quindi vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video